Un cordiale saluto ben ritrovati, buongiorno cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa di oggi, venerdì 27 maggio 2016, siamo come di consueto in onda per leggere i quotidiani che troverete in edicola. Noi ce li abbiamo già pronti invece qua sul nostro touchscreen per la lettura. Cominciamo dal santo del giorno, vediamolo subito, il santo di oggi è Sant'Agostino di Canterbury è del 600, il sole sotto alle 5 e mezzo tramonterà alle 20 e 41. Allora il tempo per oggi è un cielo sereno, sarà sereno o poco nuvoloso con le temperature che aumenteranno nel corso della giornata, domani un po' di nuvolosità che varie velature che transiteranno nel pomeriggio, le temperature sono in ulteriore lieve aumento. Per domenica invece vedete il tempo peggiora sulla dorsale appenninica, avremo deboli precipitazioni sparse nelle ore centrali della giornata, più probabili nelle zone dell'entroterra. Le temperature in lieve diminuzione, il tempo peggiora la settimana prossima. Allora cominciamo a leggere i quotidiani, il resto del Carlino, la pagina di Fano con l'arresto dell'imprenditore Cordella, bocche cucite nel suo entourage, l'entourage è formato, sono quelle persone che hanno lavorato con lui, che lavorano con lui, che sono vicine a lui. La parabola del self-made man fanese, che abbiamo già detto self-made man fanese, è una parola inglese che sta a indicare qualcuno che si è fatto da solo. Oggi l'interrogatorio di garanzia davanti invece alla GIP Lorena Mussoni, nella maggior parte delle società in cui è entrato Cordella si è lasciato alle spalle nemici e carte bollate. Chi lo conosceva circa una settimana fa qualcuno gli aveva caldamente consigliato di presentarsi al più presto in procura e dire ai PM più o meno eccomi, ho un po' di cose da dirvi sulla mia attività. Così non è stato e quindi alle 5 e mezzo di mercoledì mattina lo hanno arrestato. E l'arresto, la notizia dell'arresto, tra l'altro occhio alla notizia, il nostro sito web è stato il primo sito a pubblicare la notizia dell'arresto di Cordella, ha scatenato un putiferio tra i giustizialisti del web che hanno esultato e si sono scatenati con commenti che sono un po' così così, perché sulle disgrazie altrui a mio parere non si dovrebbe mai gioire, ma comunque il web non perdona. Questo è il titolo sul resto del Carlino. Sulla pagina di Fano invece del Corriere Adriatico ecco il riquadro con tutto il sistema societario di Stefano Cordella, tutte le società di cui fa parte oppure dove ha semplicemente delle cariche o delle qualifiche. Ci sono accertamenti sulle aziende in particolare di luce e gas, il PM ha chiesto il fannimento di company flash ed energia pulita, nell'indagine anche la società Che Bolletta, la bancarotta riguarda 6 milioni e 300 mila euro sottratti dalla gestione di anteprima web e anteprima group nella galassia societaria. Sono coinvolti anche il suo ex autista, la compagna, presta nomi e nuovi soci in affari. Oggi l'interrogatorio questa mattina nel tribunale di Pesero. La pagina di Fano invece del messaggero, Cordella sapeva dell'inchiesta ma non si aspettava l'arresto, l'avvocato Cazzola diceva scarcerato, i fallimenti su cui si indaga sono ormai datati. Era preoccupato ma è rimasto a Fano con tutte le sue cose senza scappare. Definito dalla finanza senza scrupoli, a lui farebbero capo 18 società tra cui Che Bolletta, spariti appunto come dicevamo 6 milioni. Poi si parla sui giornali di questa mattina anche della vicenda degli espropri, una situazione sempre più calda, una situazione sempre più complessa dove però si sta cercando adesso di trovare, di dirimere un po' la vicenda, di trovare un accordo, di cercare di far spostare queste strade eccetera però insomma sta andando un po' così così. Ecco perché Don Marco che si è messo a capo di questo comitato di persone che subirà appunto che avrà gli espropri, Don Marco adesso dice fermeremo le ruspe, questo è il titolo sia del messaggero ma come vedremo tra poco anche di altri quotidiani. Tensione all'ufficio tecnico del comune, protestano i proprietari contro gli espropri, il comune ci ha lasciati da soli ed è infatti questo il problema. Cioè se queste cose sono nate una decina di anni fa, queste espropri si sapeva, queste opere compensative dall'era Carnaroli si è arrivati adesso ai picchetti nei giardini delle case e chiaramente senza aver discusso nulla minimamente prima. Ecco, sono queste le cose che sicuramente danno fastidio e fanno scaldare gli animi. Un po' all'italiana come al solito. Andiamo invece a vedere su questo argomento anche l'altro quotidiano, eccolo qua, il resto del Carlino con la fotografia, le due fotografie di questa riunione di cui si è parlato, noi vi abbiamo fatto vedere nel nostro telegiornale anche alcuni momenti in po' di tensione, Don Marco non arretra, fermerò le ruspe, società autostrade comune però gelano gli espropriati dicono possiamo fare soltanto piccole migliorie ma non vi aspettate nulla di più, i cittadini si lamentano di non essere stati minimamente coinvolti. Sui tumori della pelle corsa per farsi il check up gratuito a Palazzo San Michele due giornate, sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, mentre domenica soltanto al mattino dalle 9 alle 13. Andiamo adesso sull'altra pagina del resto del Carlino, quali dimissioni? Gli eletti hanno il dovere di collaborare? Parla oggi Alberto Berardi che è già stato presidente dei Carnevali italiani e che dice il Carnevale deve unire, non deve dividere. Oggi c'è la riunione del Consiglio dell'Ente, c'è qualcuno che dice ci dimetteremo tutti, insomma ecco secondo me e qui condivido l'idea di Berardi, insomma non c'è nessuna dimissione da presentare, bisogna lavorare punto e basta. Poi se si vuol fare o trovare qualche soluzione, ci sono 18 persone che possono trovare sicuramente una soluzione. Colora la vita invece i nastri di partenza, sono già 830 i corridori variopinti. Come funziona? Ci sono delle polveri, polveri di colore che si gettano addosso, si gettano in aria e ci si colora così, si ride, si scherza e si corre. Ecco quindi questa è organizzata dai volontari dell'Avis, insomma è una bella iniziativa, noi ve l'abbiamo già fatta vedere anche l'anno scorso, appuntamento domani alla Zengarini per chi vuole colorarsi appunto e colorare la propria vita. Andiamo invece sulla pagina di Marotta, l'outlet farà bene a tutto il commercio, ne sono convinti l'architetto e gli investitori che hanno illustrato ai cittadini i vantaggi della nuova struttura che dovrà sorgere a Marotta, qui ci sono alcuni rendering, è un mega centro commerciale, il regno dello shopping di Marotta che insomma è una roba non da poco, si potranno acquistare capi firmati ma appartenenti alle collezioni precedenti. Dunque come tutte le cose ci sono quelli favorevoli e quelli contrari, tra quelli contrari sicuramente le associazioni di categoria che difendono i propri clienti che sono dei commercianti che hanno paura che questo ingresso a costruzione di questo mega outlet porti, distragga l'attenzione dei clienti dal centro storico per esempio da altre zone, tutte verso questo nuovo mega centro commerciale, questo mega outlet. La pagina di Pesaro è in primo piano, eccola qui del resto del Carlino, KGS è quel titolo da milioni di dollari, è stato un commercialista di Marotta, indispensabile alla società per operare nella riscossione dei tributi. Ecco questo è un risvolto, l'articolo va letto riga per riga perché insomma non è semplice, ci sono tutta una serie di nomi, di società eccetera eccetera quindi va letto noi ci rimettiamo semplicemente all'articolo e al titolo scusate. Andiamo adesso sul Corriere Adriatico, eccola qua, la pagina di Pesaro, l'omicidio di Ismaele arriva dal giudice, il processo potrebbe sdoppiarsi a seconda delle richieste dei legali, la difesa annuncia colpi di scena, in aula la mamma del ragazzo che incontrerà l'assassino, Reo Confesso di suo figlio. La pagina di Fano invece del Corriere, Cecchini promette il voto a Gian Marioli, Maria Flora, ma la fazione della passata gestione annuncia la volontà di dimettersi. Segni di distensione invece arrivano da Pacassoni, anche il comune con il sindaco Seri e l'assessore Marcheggiani ha lanciato appelli per un accordo che non disperda l'esperienza. Poi siamo sulla pagina di Fano e Valle del Cesano, aree interne, la firma dei nove sindaci, ieri a Cagli è partito l'Iter per la valorizzazione e la rinascita dell'economia e dell'identità della zona. Da Senigallia invece la notizia è che arrivano altri 1300 posti auto però a pagamento, sul lungomare scattano le tariffe con quasi un mese di anticipo rispetto allo scorso anno. La pagina di Pesolo invece del messaggero, nonnino novantenne, a Gabice smaschera la sexy ladra. Lei lo aveva derubato con la tecnica dell'abbraccio, lui però ha messo i carabinieri sulle sue tracce e l'ha fatta smascherare, l'ha fatta prendere. Poi anche qui da Como vedete altra tegola sulla KGS e sul suo presidente Ceccarelli, l'arresto dell'ex sindaco coinvolge Pesaro, perquisizione e indagati. E poi la notizia di un art director per guidare i lavori in centro storico. Uno studio ligure affiancherà infatti i tecnici comunali di Pesaro nella supervisione artistica dei lavori. Progetti esecutivi ormai pronti, cantieri dopo l'estate, piano da un milione e mezzo di euro. Chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero? Lotta al crimine, un arresto al giorno, c'è stata la festa della polizia di strato a Urbino, la festa provinciale, al Palazzo Ducale, i risultati ottenuti in un anno, un riconoscimento anche al farmacista Claudio Mari che ha aiutato a smascherare un rapinatore seriale. Claudio Mari lo vedete cerchiato in questo tondo. Dicevo la pagina di Fano per chiudere, anche qui ambito sociale chiedono di svoltare subito, i sindaci, scusate i sindacati chiedono di svoltare subito, il nuovo coordinatore, vedete Borini, CGL Cisle Will, prioritario costruire progetti partecipati, verifica sulla nuova tarifazione e poi sopra verso la rinascita del parco urbano. E questa è l'altra notizia, questa sera in Commissione si vota per il primo passo per la realizzazione dell'area verde. Tutto, grazie per averci seguito, questa sera alle 20.30 c'è Occhio alla Notizia. Arrivederci.